Ci troviamo a Robecco sul Naviglio, la rotonda del cimitero, c'è stato un incidente stradale coinvolta anche un'auto dei carabinieri, a fortuna sono giunti sul posto numerosi mezzi di soccorso l'Ata Soccorso, la Croce Bianca di Magenta, i Vigili del Fuoco di Magenta e numerosi altri mezzi dei Vigili del Fuoco Grazie a tutti